Buon salvone appassionati di football manager, io sono Alessandro, Lucus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione dall'oredì al venerdì, si va in live dalle 19, sabato e domenica dalle 17, proprio oggi vi aspetto in live dalle 17 perché iniziamo una nuova challenge, ma bando alle ciance, di cosa parliamo quest'oggi? Di un database che ci riporta indietro nel tempo alla stagione 92-93, quella del Milan che vince il secondo scudetto consecutivo, tredicesimo totale, ma soprattutto è ancora sì il Milan dei olandesi, ma è direzionato da Capello, non più da Sacchi, troviamo anche ancora Maradona in attività, ma in Spagna, troviamo anche una regola importante che viene introdotta proprio in quella stagione, il portiere non può più prendere il pallone con le mani se ci sta un retropassaggio da parte del suo compagno, a meno che non è un passaggio di testa. Ritorniamo quindi a un momento glorioso in cui la Serie A era ancora l'epicento del calcio e non come oggi dove le scuole italiane non sono neanche alle fasi di minazione diretta della Coppa dei Campioni, dove non riusciamo a qualificarci neanche per il Mondiale di Calcio. Vediamo quindi quali sono i giocatori migliori e quali sono anche i campionati giocambili di questa database e poi vediamo come si installa. Questo database ci permette di andare in sei nazioni diverse, Francia, Germania, Scozia, Spagna, ma soprattutto Inghilterra e Italia hanno persino la Serie Cadetta, quindi c'è la Serie B volendo in Italia e ci sta la Championship in Inghilterra. Questa è anche la prima edizione in cui nasce il format attuale della Premier League. Come potete notare volendo si possono anche scaricare i loghi delle squadre del passato, per esempio in Juventus ci sono le zebre al centro e non quel logo stilizzato che a me francamente non piace molto. Però purtroppo i kit delle magliette e anche il face pack a momento a disposizione per questa stagione 92-93 non ci sta, quindi si gioca con le magliette di oggi e con i volti dei giocatori che ormai sono invecchiati se avete scaricato il cutout, ma insomma non ci sono quelli originali. Speriamo che vengano messe a disposizione anche face pack e kit magliette proprio per questa stagione, se ci sarà chiaramente un'evoluzione in tal senso vi metterò un messaggio in evidenza a questo video e vi aggiornerò chiaramente i link in descrizione per poter scaricare anche questo materiale. Il problema però di questi database è che la data resta quella odierna, 19 luglio 2021, sarebbe stato bello vedere proprio scritto qui 1992, devo però tirare anche un po' le orecchie al ragazzo che ha fatto questo enorme lavoro perché i punti per la vittoria nella stagione 92-93 erano 2, non erano 3, infatti il final vincerà con 50 punti e dalla stagione 94-95 che la serie A porta 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio e questa volendo è una regola che si poteva modificare con l'editor pregame. Anche le sostituzioni restano quelle di base del gioco, ovvero 5 su 12 e non quelle reali di quella annata. Oggi come oggi abbiamo la Conference League, terza competizione continentale europea, all'epoca però ci stava la Coppa delle Coppe, oltre alla Champions League e alla Coppa UEFA. Alla Coppa delle Coppe ci partecipava la squadra che l'anno precedente aveva vinto la Coppa Nazionale e infatti qui abbiamo il Parma che vince nel 1992 la Coppa Nazionale, quindi nella stagione che noi dovremmo fare, ovvero la 92-93, dovrebbe disputare la Coppa delle Coppe che tra l'altro in realtà andrà a vincere proprio nella stagione 92-93. E infatti qui purtroppo abbiamo in bacheca già la vittoria del 1993. Questo cosa comporta che questa database per quanto riguarda la distribuzione delle squadre nei campionati fa riferimento esattamente alla stagione 92-93, ma per quanto riguarda la partecipazione alle Coppe hanno fatto un po' di confusione perché hanno spostato di un anno in avanti, infatti qui troviamo il Parma che non partecipa alla Coppa delle Coppe, ma partecipa invece all'Europa, alla UEFA Cup, che però è la Coppa UEFA. Infatti si vede che l'ha vinta nel 92 l'Ajax, l'Inter nel 91, l'ha vinto nel 1990, non so perché poi ci sta questo salto dal 92 al 19-20, questo forse è per cercare di far quadrare i calendari, non so sinceramente qual è stato il grosso del problema, ma hanno fatto confusione. Infatti se io vado a cercare la Sampdoria, vedete come la Sampdoria purtroppo partecipa alla Coppa delle Coppe, che sarebbe appunto la terza competizione, se io salgo su trovo la Coppa UEFA e poi trovo la Champions League. Quindi vuol dire che hanno slittato in avanti di un anno perché la Sampdoria nel 92-93 non ha competizioni europee, si qualifica l'anno dopo a una competizione continentale. Diamo uno sguardo quindi a come eravamo, partito dal Milan degli olandesi con Marco Van Bast, uno dei canoni più forti della storia, se non si fosse fatto male chissà cos'altro avrebbe vinto. Rude Gullit mentalmente fa paura, abbiamo anche Raikard fortissimo anche a livello fisico. Spesso si rende a fare dei confronti con il passato e forse a mitizzare i giocatori, eppure queste schede ti fanno capire esattamente il livello qualitativo che ci stava una volta. Forse su alcune schede si potrebbe magari essere stati un po' troppo generosi, però parliamoci chiaro, se questi qua ritornassero oggi e si allenassero con quelle che sono le conoscenze di oggi a livello non solo di palestra, di alimentazione, chissà se realmente non distruggerebbero proprio i giocatori che abbiamo. Questo era il Milan, vediamo qualche tasquadro. E non si può non partire da Roberto Baggio, forse l'icona non solo della Serie A ma anche del calcio mondiale di quegli anni, ma trovatemi un difensore centrale forte quanto questo che aveva la Juventus, 18 in contrasto, 18 in marcatura, 18 in posizione, è difficile trovare profili del genere su FM21. Gianluca Vialli aveva vinto con la Sampdoria qualche anno prima lo scudetto e ora lo troviamo qui alla Juventus. E ancora abbiamo Platt, guardate mentalmente, 20 in senza palla, 20 in determinazione, un altro giocatore tedesco molto 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 forte a livello tecnico come Moller, e poi ancora Angelo Peruzzi che poi si trasferirà anche all'Inter nel corso del tempo, una scheda di tutto rispetto. Devo ammettere che l'Inter di Bagnoli non è che la ricordassi benissimo, per esempio non conoscevo affatto questo Ruben Sosa che invece come Uruguaggio sembra tecnicamente veramente formidabile, Sammer invece me lo ricordava perfettamente mentalmente stratosferico, Bergomi anche qui un altro giocatore che ci fa capire anche il segno dei tempi, un giocatore più abile nella fase di copertura piuttosto che in quella di spinta, oggi come oggi troviamo terzini che sanno quasi più fare l'ala aggiunta e poi invece hanno delle mancanze, penso per esempio a Teo Hernandez, penso a Cancelo, non che siano scarsi per carità, ma sono quasi più offensivi che difensivi, anche i difensori centrali che abbiamo visto e stiamo vedendo in questo database sono molto più rucciosi e abili nella fase di difesa, piuttosto che quella di impostazione che invece oggi come oggi si chiede ai giocatori centrali di difesa per fare quasi la ripartenza dal basso, che forse è un po' rotto questa eccessiva ripartenza dal basso, questa per esempio era la Lazio di Aaron Winter, del signor Gascoigne, ma soprattutto del signor Nesta che ancora era troppo giovane per essere quello che poi abbiamo conosciuto come uno dei difensori centrali più forti della storia italiana, questo è Diego Fuser e poi vedrei anche il signor Cristiano. Prima che imparassimo a conoscere il fenomeno Francesco Totti che all'epoca era troppo giovane, il re di Roma era questo ragazzo Giannini, guardate che bella scheda, guardate che bel giocatore, soprattutto trasversale, poi abbiamo anche il signor Canigia, 25 anni, argentino, abbiamo anche Aldair che è stato uno dei migliori difensori anche di quella storia, 19 in colpi di testa, 17 in contrasto, 17 in marcatura, 16 in posizione e abbiamo anche un intuito e un senza palla veramente incredibile, un po' più lenti quelli del passato come difensori in linea generale, ma almeno per quello che ci dice questo database, ma molto 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 più forti di quelli che abbiamo adesso, c'è da raccontare e da soffermarci anche su questo aspetto probabilmente per capire un po' com'era il calcio di una volta. Questo invece è Francesco Totti, anche lui troppo giovane, 15 anni. Questa invece è l'anteprima della Serie A con il Milan strafavorito a 1.91, secondo la ruota Juventus e Inter, quindi se volete provare a cambiare la storia potreste prendere magari una delle squadre spacciate come il Foggia del signor Zeman. Questa invece è l'anteprima della Premier League con il Manchester, quotato strafavorito a 2, seguono a ruota Arsenal e Liverpool, ma guardate le ultime 3 come sono completamente spacciate, quotate a 1.001, un po' diverse rispetto alla situazione attuale dove le squadre anche faranno di coda, possono mettere in crisi ovviamente nella Premier League. Troviamo un sacco di giocatori interessanti, soffermiamoci però almeno sulla formazione titolare dove troviamo Ryan Giggs, giocatore del Manchester, ancora giovanissimo perché qui troviamo un sacco di talenti nel Manchester che poi diciamo via via faranno la storia di questo signore qua, del signor Alex Ferguson che farà sicuramente anche lui la storia di questo Manchester. Anteprima della Ligana invece con un Marzia strafavorito a 1.36, seguono invece il Monaco a 9.50 e poi dove sta il Paris Saint-Germain, quotato addirittura a 15, vedete come è cambiato completamente la storia nel corso degli anni. In avanti troviamo Alain Bocic, attaccante, croato del Marsiglia, guardate che valori incredibili a livello atletico. Troviamo Desailly in difesa, qui 23enne, e troviamo poi un altro giocatore che voglio farvi assolutamente vedere, ovvero il signor Abedi Pelé. L'anteprima della Bundes vede invece favorito il Bayern Monaco a 1.73, seguito a ruota poi da Verde Brema e Stoccarda. Vediamo anche uno dei giocatori più rappresentativi del Bayern Monaco, il signor Matteus, che ha 20 in carisma, 20 in coraggio, 18 in impegno. Come si fa a vedere i giocatori più rappresentativi di FM? Basta andare sul mondo, basta andare un'altra volta sul mondo e poi sul profilo. Qui ci sta l'elenco dei migliori calciatori. Alcuni li abbiamo già visti, ma come si fa a non parlare di Diego Armando Maradona al Sevilla in fase stracalante della sua storia, però insomma, ancora è una delle schede migliori che si possono trovare in questo database. Ci stavano anche Baresi che ci sono persi, ovviamente anche quest'altro giocatore stra-dominante per l'epoca e poi c'era anche Klisman che qui si trova al Monaco in Francia e però mi manca un giocatore che dovrebbe esserci, un brasiliano. Pensavo proprio a lui, Romario, il giocatore che attualmente si trova al PSV con una scheda veramente spaventosa, fortissimo a livello atletico, dinamico, grande fantasia, estrosità, tecnica e movimento di zapalla, tra l'altro ambidestro. Questo database lo possiamo scaricare dal sito di FM Scout, il link specifico è questo che vi lascerò chiaramente in descrizione. Questa volta però, oltre che ringraziare Mad Scientist per l'incredibile lavoro, io vi sconsiglio di cliccare su Download Now perché abbiamo tante possibilità che possiamo sfruttare questa volta per avere questo file. Per esempio, se clicchiamo su Download 92.3 Season Save Game, voi avrete appunto il Save Game, che è la stessa cosa che potete scaricare cliccando subito sopra su Download Now, cioè avete un file che dovete mettere nella cartella Games che si trova in documenti e quindi una volta avviato il gioco vi basterà poi caricare direttamente il Save, quindi andando su Carica Carriera e quindi partirete con tutti i campionati già giocabili. Se avete poi anche comprato a parte il DLC dell'Editoring Game, potete sfruttare anche l'Editoring Game, però se voi volete bloccare alcune funzionalità come l'Editoring Game, se volete diciamo fare delle scelte diverse per quanto riguarda per esempio i nascondi attributi, il bloccaggio del mercato nella prima sessione di mercato, beh, allora in quel caso vi sconsiglio di cliccare qui ma vi consiglio di cliccare invece sotto per avere semplicemente il database. Così lo mettete in editor data, fate partire il gioco e fate voi insomma le scelte di quali campionati rendere giocabili e quale spunte andare a utilizzare per il vostro save. Clicchiamo su entrambi così scarichiamo entrambi e poi facciamo appunto vedere la differenza dei due file. Questo, il save game, pesa 46 MB. Clicchiamo quindi su Download Now e attendiamo insomma che sulla sinistra si completi il download. Sarà veramente velocissimo perché appunto si tratta di pochi MB. Torniamo indietro e andiamo adesso a scaricare invece il database. Così vediamo anche come si va a installare il database andando passo passo. Clicchiamo anche qui su Download Now. Questa volta pesa solamente 15 MB. Ovviamente non sono indispensabili entrambi e vi faccio vedere entrambe le opportunità. Poi siete voi che dovrete decidere quale dei due file andare a scaricare. Scendendo sotto invece troviamo anche il logo pack che è opzionale. Non serve per far partire ovviamente questo database ma se volete i loghi originali proprio degli anni 90 delle squadre che ripeto non sono proiettiti delle magliette e non sono il face pack ma semplicemente i loghi delle squadre beh dovete cliccare anche qui. Clicchiamo quindi su Download Now. Anche qui si tratta veramente di pochi MB appena 4. Quindi clicchiamo su Download e attendiamo. Siamo quindi nella cartella di Download dove ci sono i tre file che abbiamo appena scaricato da internet. I primi due sono subito leggibili dal gioco perché sono il save game e il file che va messo in editor data. Mentre il terzo va prima estratto. C'è un sacco di programmi gratuiti che vi permettono di fare questo come Guirard, 7Sip e compagnia bella io utilizzerò 7Sip. Quindi tasto adesso il mouse in corrispondenza di 92-93 logo patch. Si apre questo piccolo menu andiamo su 7Sip e poi su Estrae in 1992-93. Vedete come è stato veramente super rapido. Vediamo subito come mettere il logo perché qui dobbiamo fare un'operazione accessoria. Andiamo subito in documenti Sports Interactive Football Match 2022. Dopodiché andiamo all'interno della cartella Graphics. Qui se avete già una cartella Logos dovete prenderla e metterla in desktop o in un'altra posizione perché sennò poi andranno in conflitto. E solo dopo aver fatto questo si ritorna in Download e andiamo prima a rinominare adesso questa cartella semplicemente come Logos. Così non facciamo danni eventualmente perché è un gioco un po' complicato. Football Manager a volte combina dei danni incredibili su cose molto semplici. Poi vi spiegherò di cosa sto parlando. Quindi andiamo su Logos, tasto adesso il mouse in corrispondenza di questa cartella, andiamo su Taglia, poi ci spostiamo i documenti, Sports Interactive, Football Manager 2022, andiamo all'interno della cartella Graphics e poi tasto adesso il mouse in un punto quasi dello schermo e poi pigiamo su Incolla. Io non lo faccio perché ovviamente la cartella Logos ce l'ho già. Torniamo quindi in Download e ora dovete decidere quale utilizzare, se appunto il save game che è quello più pesante, non vi potete sbagliare, 47 MB oppure il file che va messo in editor data per decidere da voi cosa attivare per creare il vostro save e come vedete questo è più piccolo ed è un file FMF quindi non vi potete sbagliare. Partiamo da questo ovvero quello che va messo in editor data, quindi tasto adesso il mouse in corrispondenza di 92-93, si apre quindi questo menu a tendina, andiamo su Taglia, quindi su Documenti, Sports Interactive, Football Manager 2022 e poi andiamo dentro la cartella editor data. Tasto adesso il mouse in un punto quasi dello schermo si apre questo menu a tendina e andiamo su Incolla. Andiamo una trotta su Download, prendiamo adesso invece l'altro file, quello più grosso, quello da 47 MB, tasto adesso il mouse, andiamo anche qui su Taglia, poi su Documenti, Sports Interactive, Football Manager 2022 e poi andiamo adesso nella cartella invece Games. Clicchiamo quindi dentro la cartella Games, tasto di mouse in un punto quasi dello schermo e poi pigiamo su Incolla. Ripeto, non è fondamentale andare a mettere sia il save di gioco sia quello che serve in editor data, dovete scegliere quale dei due, vi ho già spiegato la differenza tra entrambi i file. È molto importante che le operazioni fatte in precedenza vengano fatte a gioco spedto, mi raccomando il problema è legato soprattutto ai loghi perché se lo fate quando il gioco è già acceso va in confusione tra i vecchi loghi e i nuovi loghi e poi vi crasha. E se vi crasha l'unico modo poi per risolvere sarà cancellare manualmente la cache. Quindi ve lo dico prima, se finite in quella situazione lì vi metto anche a schermo il video su come si fa a cancellare manualmente la cache al minuto esatto in cui parte quell'operazione perché in quel video andavamo ad analizzare tanti possibili problemi e tante possibili soluzioni per quelli che sono i crash in generale di gioco. Quindi una volta fatto questo non ci resta altro affare che avviare una nuova partita con il vecchio save se abbiamo utilizzato come vi dicevo in precedenza il save di gioco che andrà semplicemente caricato. Infatti se andiamo su 92, 93 DB e andiamo su carica quello che accade è appunto che ci riporta nella schermata dove dovete decidere semplicemente che squadra prendere. Quindi una volta scelto il profilo allenatore vedete che deciderete il campionato in cui cimentarvi, sono tutti e sei giocabili, lasciate la vostra squadra e partite con un normale avventura su FM22. Se invece volete sfruttare il file messo in editor data e quindi avviare una partita ex novo decidendo voi i parametri del save andate invece su inizio una partita, andate su carriera, qui mi raccomando in alto a destra pigiate dove c'è scritto database sopra la scritta aggiornamento 22.4, cliccate ancora su questa prima barretta e dovete selezionare per forza football manager 2022. Mi raccomando perché questo database non è compatibile con la versione 22.3 o la 22.4, quindi mi raccomando dovete pigiare su football manager 2022, dopodiché cancellate tutto e selezionate solamente il file 92.93 master post 22.2, mi raccomando e una volta fatto ciò andate su conferma, andate poi su impostazioni avanzate e attendete il caricamento di database, ci metterà qualche secondo non vi preoccupate. Non vi resterà quindi altro da fare che decidere quali campionati andare a selezionare, vi ricordo però che solamente quei sei sono giocabili nella stagione 92.93, gli altri ovviamente non sono stati ritoccati. Fatta la vostra scelta non vi resta altro da fare che scegliere anche i parametri, se volete disabilitare i nascondi attributi, cioè avere tutti i valori visibili dei cacciatori anche non vostri, dovete pigiare su questa casellina e renderla quindi selezionabile. Se invece voi non volete vedere tutti i valori andate a deselezionare la casellina, se volete poi utilizzare l'editor in game dovete deselezionare questa casellina, se invece non volete utilizzare eventualmente l'editor in game dovete pigiare su questa casellina. Queste diciamo sono le caratteristiche che potete andare per esempio a utilizzare per personalizzare la vostra partita, dopodiché avviate e se ci sarà un po' di tempo da aspettare non vi preoccupate, io mi ricordo che qualcun database ci mette un po' per puro sfizio lo avvio e vi dirò quanti minuti ci mette a creare questo database. Devo dire che mi aspettavo decisamente peggio, ci ho messo solo due minuti per andare a creare il save, quindi direi che molto bene rispetto ad altri database. Il video su come ritornare indietro nel tempo alla azione 92-93 termina qui, fatemi sapere cosa ne pensate, se intendete utilizzarlo io vi aspetto il live quest'oggi dalle 17 su quella piatta formaiola per iniziare una nuova challenge. Buon salvone!